che ancora oggi esiste fra il pesce di mare e il pesce di lato. Io spero che la cucina che abbiamo fatto noi, i cuochi pescatori, sia di vostro granimento. Non a caso abbiamo fatto una scheda, se voi notate nel biglietto, con una valutazione, ma non l'abbiamo fatta così per dirci bravi o per dire siete stati bravi.